Ciao a tutti, sono Davide di Farrow Wine ed oggi vorrei parlarvi di Bibok del birrificio italiano. Erroneamente si crede che lo stile della Bok sia nato in Baviera. In realtà le sue origini sono un po' più a nord, nella cittadina di Einbeck che si trova in bassa Sassonia. Da qui le birre arrivavano a Monaco. Grazie a un tenore alcolico un po' più sostenuto riuscivano a fare dei viaggi un po' lunghi. Agostino Arioli con la sua Bibok va a dare un'interpretazione più moderna, va a dare un tocco di novità a una birra che di base con i suoi malti caramellati ha delle belle note che ricordano il caramello, la frutta disidratata, il biscotto, il toffee, note morbide, note calde che rimandano a questi periodi più freddi. Però nel finale una bella presenza lupolata, lupoli nobili tedeschi e un tocco leggero di America che riporta a delle note di erba, di fieno, di agrumi. Bella, secca, mai banale. Finisce con un leggero tenore alcolico perfetto per riscaldare queste serate. Cheers!